Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi parlerò di come aprire AsoSpace La prima cosa da fare è cliccare qui Ecco, si è aperto AsoSpace Andate su Crea Partita E una volta aver creato la partita Il volume del gioco si abbasserà notevolmente Non so per quale motivo Bene, una volta aver iniziato Potete andare a fare qualsiasi cosa Voi direte, che cosa si può fare in un gioco del genere? Bene, la prima cosa che potete fare è guardare uno morire La seconda cosa che potete fare è morire La terza cosa che potete fare è uccidere La quarta cosa che potete fare è diventare delle tombe esplosive La quinta cosa che potete fare è tuffarvi un'acqua Voi direte, si può fare altro in questo gioco? Sì, potete scansare un razzo E voi direte, come si esce da questo gioco? Bene, per uscire dal gioco basta cadere giù da un palazzo Bene, il tutorial è finito Ciao